Secondo me, l'unica maniera per sconfiggere il doping nel ciclismo è renderlo legale. Ma sei impazzito? I corridori si drogherebbero fino alla morte? Prenderebbero così tante pastiglie da schiattare nel bel mezzo di una tappa? Esatto! Così se uno arriva in fondo e vince, sei sicuro che non si è drogato? Non ci avevo pensato.